Il Consiglio regionale ha stanziato 500.000 euro in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma. Le risorse derivano in parte dai risparmi sui costi della politica. L'Assemblea ha inoltre istituito un conto corrente postale per un aiuto concreto. L'Assemblea ha poi approvato la delibera a primo firmatario il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, che assegna il sigillo della Regione Piemonte 2016 al Sermic di Torino, fondato nel 1964 da Ernesto Olivero. Con due votazioni all'unanimità, il Consiglio ha infine approvato due mozioni affinché l'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti sia inserita nei nuovi LEA e coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono otto, oltre una riserva a casa, i campioni piemontesi che partecipano alla quindicesima edizione dei giochi estivi dedicati ad atleti con disabilità, a Rio de Janeiro fino al 18 settembre. Il Presidente del Consiglio, Mauro Laus, ha rivolto loro un messaggio di augurio e incoraggiamento. Con il progetto della prima settimana della musica, che si svolgerà dal 4 all'8 ottobre, Tortona ricorda il suo illustre cittadino, il musicista Lorenzo Perosi, in occasione del sessantesimo della sua morte. La manifestazione internazionale promossa tra gli altri da diocesi e comuni di Tortona, con Consiglio regionale Midback, è stata presentata a Palazzo Lascaris. L'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale ha un nuovo numero verde, che risponde all'800 81 11 83. L'ufficio, che rappresenta un punto di accoglienza e informazione, è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30. Mutuo soccorso e solidarietà, immagini grafiche, opere, installazioni e una fontana, e il titolo della mostra itinerante promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, ospitata fino al 28 settembre a Casalborgone, in provincia di Torino.